Ciao a tutti, oggi prepareremo i biscotti ragusani o modigani. Il tempo di preparazione della ricetta è di 50 minuti circa. Gli ingredienti sono farina di tipo 00, uova, zucchero, strutto, aroma di vaniglia, latte, lievito per dolci, sale e scorza di limone. Diamo il via alla ricetta. Iniziamo la ricetta mettendo all'interno del boccale lo zucchero e la scorza di limone. Chiudiamo con il coperchio e il misurino e azioniamo il bimbi per 15 secondi a velocità 10. Riuniamo sul fondo del boccale con la spatola. Aggiungiamo lo strutto, il latte, le uova, il pizzico di sale, l'essenza di vaniglia e il lievito. Chiudiamo con il coperchio e il misurino e azioniamo il bimbi per 50 secondi a velocità 5. L'impasto è pronto, formiamo un panetto. Adesso formeremo i nostri biscotti. Io utilizzerò il beccuccio di una sacca a poche con i dentini molto larghi. Prelevo un pezzo di impasto, metto all'interno del beccuccio e continuiamo così per tutto il resto dell'impasto. Una volta formati i biscotti, spolverizziamoli con lo zucchero semolato e cuociamoli in forno preriscaldato a 200 gradi per 15 minuti circa. I biscotti sono cotti, lasciamoli riaffreddare del tutto prima di rimuoverli dalla teglia. Biscotti ragusani o modicani Grazie e alla prossima ricetta! Grazie a tutti! Grazie a tutti! Grazie a tutti!